L'incidente è questa sera, domenica 3 marzo, intorno alle 19, sulla strada provinciale 565 a Pedemontana, in galleria all'altezza di Quagliuzzo. Coinvolte tre vetture, una Fiat Bravo con a bordo padre e figlio di 10 anni, una Ford Fiesta condotta da una ragazza e una Citroen C5 con un uomo alla guida. Le tre vetture, dopo l'impatto, hanno terminato la loro corsa contro le pareti della galleria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte, la Croce Rossa di Rivarolo e il soccorso avanzato di Ivrea e i carabinieri. Le quattro persone, subito soccorse, sono state portate al pronto soccorso di Ivrea, non sono in pericolo di vita, ha certamente in corso sulla dinamica. Il tratto è rimasto chiuso al traffico, il tempo necessario per permettere le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni di Grazie a tutti. Grazie a tutti.